Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Torniamo oggi a parlare di politica, soprattutto di Sesto Fiorentino, perché l'accordo che è stato trovato tra il Sindaco Sciente e il Partito Democratico è una notizia che ricompone un'area di sinistra, lasciando però nello scontento Italia Viva, che proprio nel fine settimana ha organizzato anche dei banchini di protesta, soprattutto per sensibilizzare la popolazione su quelli che sono i loro punti di vista rispetto a questa nuova alleanza. Tant'è che in ogni caso il Partito Democratico ha già espresso il nome della persona che potrà sedere sul poltrono del Vice Sindaco, qualora ovviamente vincesse Falchi e la coalizione che lo sostiene, e sarà Claudia Pecchioli che noi abbiamo in studio e che saluto e ringrazio. Buonasera e benvenuta anche a Sandra Nisti, giornalista della Nazione esperta di Sesto Fiorentino. Diciamo così, ciao Sandra, buonasera e benvenuta anche a te. Grazie, grazie. Abbiamo invitato tra l'altro Sandra Nisti, lo voglio ricordare, mi fa molto piacere perché pochi tempo fa, insomma pochi mesi fa, ha prodotto questo lavoro insieme a Elena Andreini, il Palazzo dei Sestesi, proprio raccontando i 150 anni del municipio di Sesto Fiorentino, e quindi come dire, non soltanto della struttura ma anche di so che vi sta dentro parleremo oggi, partendo da una considerazione un po' più generale, Claudia, perché mi piacerebbe analizzare quello che è stato anche un passaggio importante per il Partito Democratico. Le primarie si sono tenute domeniche anche in città grandi e importanti come Roma e Bologna. Tra l'altro a Bologna si è ricompattato intorno a una figura che sta più nella tradizione della sinistra piuttosto che in area moderata, tra l'altro portando a votare tante persone. Questa forse è la notizia più importante per il Partito Democratico. Buona la prima, come ha detto Enrico Letta? Io penso che questa sia un po' la forza del Partito Democratico, nel senso che quando ci sono delle tornate elettorali particolari come le amministrative, abbiamo questo strumento da mettere in campo quando ci sono le condizioni, che è quello delle primarie, in cui appunto si chiede alla comunità democratica in senso ampio, quindi non solo agli iscritti ma anche agli elettori e simpatizzanti, di decidere sulla base dei programmi, sulla base delle figure, ma sulla base io direi delle idee. Io penso che questo in generale sia un momento di partecipazione che il Partito Democratico ha e lo utilizza come un unicum, nel senso anche in maniera abbastanza sistematica e anche in Toscana ci sono state delle primarie molto partecipate, che sono quelle di Reggello. Io penso in generale che quando c'è questa partecipazione fa piacere, soprattutto appunto nelle elezioni amministrative, che è poi quando si prendono le decisioni anche più vicine ai cittadini, quindi chiedere ai cittadini di un comune di esprimersi sulla figura del candidato sindaco è importante anche per questo motivo, secondo me. Senti Sandra, ti chiamo subito in causa, perché come dire, a Sesto Fiorentino non solo non sono servite le primarie, ma insomma per scegliere diciamo in una coalizione ampia che tiene insieme il partito che sostiene, a cui appartiene Lorenzo Falchi e dall'altra parte il Partito Democratico, ma insomma si è arrivati a una coalizione appunto sulle idee, diceva Pecchioli. Come è successo? Cioè perché se uno, come dire, si fosse addormentato cinque anni fa e si svegliasse oggi a Sesto Fiorentino, direbbe è cambiato il mondo. Come ci siamo arrivati? È difficile dirlo come ci siamo arrivati, perché in effetti era da un po' che questo accordo era ventilato, però non c'è mai stato un momento in cui si è detto che ci sarebbe stato l'accordo. Non so se questo accordo farà davvero felici tutti, magari poi ne parlo con Claudia, ma forse questo passaggio dall'opposizione alla maggioranza il PD in qualche modo lo ha fatto per non rischiare di arrivare un'altra volta al ballottaggio, anche se ricordiamolo è il partito di maggioranza relativa. Dall'altra parte credo che Falchi, che pur ha fatto bene, si è fatto conoscere, è giovane, ha, credo abbia cresciuto i suoi consensi, credo che sia felicissimo di avere il pacchetto di voti del PD, che è sempre un pacchetto consistente. È assolutamente così. Passiamo a dire a segno un po' le questioni che diceva Sandra Nistri con Claudia Pecchioli, perché la prima è questa domanda, è cambiato qualcosa nel clima anche del paese che vi ha spinto a questa alleanza? Perché cinque anni fa, ad esempio, anche un elettore di centro-destra viveva in un clima e votava in un clima molto diverso in Toscana rispetto a quello che c'è oggi. Questo in qualche modo ha spinto, secondo te, le forze di sinistra a raggrupparsi? Certamente sì. Ora, noi sappiamo che gli ultimi anni in politica sembrano quasi delle ere geologiche dalla quantità di cose che succedono e poi cambiano anche il panorama. Qui c'è un avvenimento in più, che è la pandemia da Covid-19, che sicuramente ha rimesso tutto in prospettiva, nel senso che ci siamo resi conto, chiesti, che se era necessario, come poi è stato necessario, che si superassero quelle che sono le divisioni a sinistra e che si dessero risposte tutti insieme ai cittadini. Io penso che questo sia un po' il fulcro di questa coalizione che noi abbiamo. Nel senso che a Sesto c'è una classe dirigente che ha deciso, cinque anni fa, di fare un'opposizione che fosse nel merito delle questioni. Noi a volte siamo stati ritenuti anche un po' tiefidi, no? Perché spesso io capisco che l'opposizione fatta a sprombattuto ideologica magari passa anche di più. Noi abbiamo fatto un'altra scelta in prospettiva, no? Per lavorare su questa prospettiva che poi si è avverata oggi con il lavoro faticoso che abbiamo fatto, una opposizione nel merito e quindi a volte siamo stati d'accordo con la maggioranza, a volte non siamo stati d'accordo, abbiamo fatto le nostre battaglie. Su questa base poi abbiamo avviato negli ultimi mesi un percorso che è stato lungo, a tratti, faticoso, per anche ricostruire un po' una comunità che fosse in grado di superare quelle divisioni che c'erano state e di concentrarsi su una nuova proposta che è quella che noi presentiamo, nel senso che abbiamo, apriamo e decidiamo di aprire una nuova stagione sulla base di un confronto sui temi, non tutti ci sono stati su questo confronto sui temi e questo va detto, però si è, faticosamente, ma si è trovata una quadra e questa secondo me è la cosa importante anche per presentarsi ai Sestesi che secondo me non avrebbero capito totalmente ulteriori divisioni a sinistra e nel centro-sinistra. Sui temi ci arriviamo subito e ci passo tra poco con Sandra Nisti, però volevo rigirare la domanda che poneva lei, in parte l'ha già rigirata lei dicendo che i Sestesi non avrebbero capito un'ulteriore divisione, ma capiranno invece un'alleanza dopo cinque anni di opposizione, comunque su posizioni tra l'altro che originariamente vi avevano tenuto molto distanti, anche su temi che tra l'altro, visto che ne parlava, sono al centro, diciamo, di quel rilancio che la Regione Toscana vuole fare nella pandemia, cioè il tema delle infrastrutture, ma anche il tema dei rifiuti, lo vediamo purtroppo attraverso anche molte cronache giudiziarie, sono due temi fondamentali e sono i due temi che hanno più diviso. Poi ne parleremo nello specifico di cosa vorrete fare, però le chiedo, i Sestesi la capiranno? Ma secondo me noi dobbiamo essere in grado di spiegarla, però secondo me tanti Sestesi l'hanno già capita, perché davvero la sensazione che si è avuto andando in giro, parlando con le persone, è che non avrebbero capito il contrario, cioè non avrebbero capito come mai in un periodo del genere creare ulteriori divisioni, laddove davvero poi cinque anni fa è chiaro che ci sono state, ma poi diciamo col passare del tempo certe divisioni si possono superare. Dicevo, c'è stato un lavoro dietro che non è stato banale per tenere insieme tutto, per tenere insieme tutte le questioni, ma io penso che questa alleanza sia positiva in questo senso qua. Sandra, allora, lo dicevamo, in parte come dire, un aiuto forse arrivato anche dal TAR, poi di fatto bocciando appunto l'ipotesi del masterplan dell'aeroporto, o almeno insomma, così come era stato formulato, ha allontanato l'ipotesi dell'ampliamento di Peretola, e quindi tolto diciamo dallo scacchiare, probabilmente un tema di difficile sintesi per le forze che oggi compongono questa coalizione. Quali sono allora i temi, diciamo così, secondo te, passandoli da segnalare rapidamente, quelli che tengono insieme i due fronti e quelli invece possono ancora essere divisivi e magari potrebbero creare qualche problema qualora dovesse vincerlo coalizione? Ma io credo che il collante possa essere rappresentato da una serie di temi, penso per esempio al sociale, più o meno diciamo che lo schieramento di centro-sinistra si ritrova in molte cose, quindi penso al welfare, eccetera. Però, e non vedo neanche tante criticità sull'aeroporto, mi dicevi ci ha pensato il TAR per il momento, e in ogni caso il PD di Sesto negli ultimi due anni, anche in Consiglio Comunale, ha approvato delle emozioni e degli ordini del giorno che andavano proprio nella direzione di bocciare l'aeroporto, almeno con l'attuale masterplan. Io sinceramente vedo ancora delle criticità su alcuni temi, ne faccio due per esempio, ne dico due. L'area Ginori, il PD è stato molto molto critico sull'edificazione del nuovo supermercato COP all'interno dell'area Ginori. È vero che l'edificazione è stata fatta per poter salvare la fabbrica in qualche modo, ma il Partito Democratico è sempre stato molto critico su questa cosa. Nella bozza di programma che c'è stata presentata alla conferenza stampa una decennia di giorni fa, l'area Ginori in effetti ci sono 4-5 righe, non è molto spiegata questa cosa. Un altro tema è quello per esempio dello sviluppo di doccia. Il PD ha portato avanti una lotta molto dura, per esempio, sull'ipotesi di edificazione nel parcheggio di Viale 20 Settembre, cosa che invece l'amministrazione sta portando avanti. Su questa cosa si erano creati dei comunitati cittadini, quindi almeno queste due questioni le vedo un po' difficili da rimettere insieme. Poi, come dicevi, c'è sempre la questione dei rifiuti che in questo momento l'inceneritore è stato bocciato, ma è sempre una questione del primo piano che tornerà sicuramente nei prossimi 5 anni. Assolutamente sì. Voglio provare a rispondere, Claudia, a questi due temi. Insomma, diceva Sandra Ministri. Allora, sì, noi abbiamo fatto appunto questo lavoro, abbiamo presentato questa cornice di programma, perché poi il vero e proprio programma sarà presentato in seguito, prima dell'estate. Quindi ci sarà ulteriore modo anche di approfondire più vaste questioni. È chiaro che quelli che citava Sandra Ministri sono dei temi che ci hanno visti impegnati, non solo in questi cinque anni, ma proprio anche nel confronto che abbiamo fatto con l'attuale maggioranza e con le altre forze della coalizione. Per quanto riguarda l'area Ginori, noi abbiamo sempre messo al centro del nuovo sviluppo di quell'area il museo. Il museo Ginori come elemento ordinatore un po' di quell'area e come anche nuova formula, nel senso un museo di una fabbrica che deve rimanere vicino alla fabbrica e essere anche un nuovo polo culturale. Noi a proposito di cultura abbiamo parlato di un centro, dei centri culturali diffusi sul territorio. Quindi abbiamo il polo di doccia, abbiamo il polo scientifico, abbiamo il Palazzo Pretorio, la Lucciola, il museo Ginori che deve essere questo. e quindi quello che a noi preme è di far sì che questo museo non rimanga in un certo qual modo schiacciato e quindi dalle edificazioni circostanze. E quindi abbiamo anche portato questa istanza ai tavoli di programma e abbiamo ottenuto anche un'apertura importante su questo. Quindi questa è la questione. La questione di doccia è una questione un po' più complicata, nel senso che ci sono già dei diritti acquisiti, da parte ovviamente delle imprese e quindi si tratterà anche lì di capire qual è la soluzione migliore per evitare nuove edificazioni e banalmente rimettersi a un tavolo e ripensare quella zona. Un'altra domanda che è un tema secondo me molto importante ed è stato uno dei temi di rimenti, il tema dell'ambiente. Le polemiche ci sono state ad esempio sulla questione delle alberature, delle potature, quello è stato un tema abbastanza divisivo per la cittadinanza e anche molto sentito vista la sensibilità che era stata espressa appunto anche cinque anni fa con la bocciatura, almeno da parte degli elettori sestesi di Case Passerini. Quanto sarà il centro del vostro programma? Perché oggi prescindere dal green sembra molto difficile in politica. Oggi è molto difficile prescindere dal green, quello che però bisogna fare è dare concretezza un po' e dare un contenuto a questo tema dell'ambiente. Noi abbiamo immaginato insieme alla coalizione che l'ambiente sia visto in maniera concreta ma che gli interventi su Sesto siano visti in maniera complessiva nel senso che non si tratta di mettere un albero lì perché ne ho tolto uno di là. Si tratta di capire, di mettere a sistema, cioè di fare intanto una cernita di quello che abbiamo, del patrimonio esistente. Penso al Parco della Piana, penso a Monte Morello, penso al verde esistente in città e poi di capire dove intervenire per massimizzare nel senso che non si tratta appunto di mettere un albero isolato ma si tratta di fare degli interventi più complessivi in modo che poi anche quell'albero singolo riesca ad avere una rilevanza maggiore e quindi si pensa alla forestazione urbana, si pensa anche a due temi che secondo me rientrano a pieno titolo nella parte dell'ambiente, all'aeroporto e alla questione dei rifiuti più ampiamente perché ora parlare di termovalorizzatore inceneritore di case Passerini è anacronistico perché comunque non è più nei fatti. Pensiamo a un piano dei rifiuti che la regione sta elaborando che dovremo certamente vedere però sul tema dei rifiuti pensiamo all'introduzione di una tariffazione puntuale perché premi in un certo e qual modo i cittadini che sono più virtuosi e stanno più attenti a fare la raccolta differenziata pensiamo ad implementare anche un sistema di tracciamento dei rifiuti che sensibilizzi e aumenti la consapevolezza che una volta che ho fatto la raccolta differenziata non è che finisce tutto lì il mio sacchetto del sudicio va a finire da qualche parte dove va a finire? ai centri del riuso alle ecotappe mi pare un programma abbastanza ampio su questo Sante Sanda volevo chiederti una cosa perché magari sembra un tema molto distante forse in parte effettivamente lo è però è tornato di moda proprio in questi giorni tra l'altro Lorenzo Falchi qualche giorno fa era al tavolo insomma con tanti altri sindaci della cintura metropolitana e ovviamente al sindaco Nardella per parlare dell'idea della grande Firenze ora è innegabile che il Sesto Fiorentino come dire come polo economico visto che insomma è attrattivo e sul suo territorio ci sono tantissime aziende molto importanti e anche però soprattutto come cerniere diciamo rispetto a Prato che poi è senza soluzione di continuità il prolungamento in qualche modo di Firenze ora mi odieranno i pratesi per questa cosa ma insomma per capirsi ha un ruolo strategico molto importante nel baricentro della Piana però insomma quando lo chiedemmo a Falchi qui in studio fu abbastanza tiepido sull'idea della grande Firenze vedremo, capiremo ma non ci facciamo appassionare dalle utopie e dalle idee troppo distanti quanto c'è di concreto e secondo te come reagirà il Sesto Fiorentino mi reagirebbe diciamo ipotesi anche più concrete come ad esempio un'urbanistica integrata servizi integrati e forse sono il primo passo per arrivare poi a un'idea di un'unica città questa cosa mi fa abbastanza ridere ti spiego perché perché i primi articoli che io ho scritto ormai una trentina di anni fa che parlava della città della Piana ed era data per sicura l'unione dei quattro comuni della Piana e io ho continuato a scrivere su questa città della Piana per un sacco di anni trovando anche i Sestesi abbastanza tiepidi perché va detto che i Sestesi sono attaccati al campanile ci sono appunto queste rivalità in realtà con i comuni intorno quindi non so quanto potrebbe andare credo che Falchi sia abbastanza tiepido perché la vede appunto con un'ipotesi abbastanza lontana visti anche i precedenti è chiaro che nell'ipotesi Sesto dovrà sicuramente rivendicare il suo ruolo proprio per la centralità di cui parlavi e il fatto di avere il PD in coalizione potrebbe in qualche modo secondo me anche aiutare in questo senso io sono piuttosto scettico però sull'ipotesi in sé visti appunto i precedenti di cui ti parlavo Sarà la vota buona Claudia Picchioli? Ma allora io penso che può avere un senso parlare di una dimensione più ampia noi siamo interconnessi nel senso che nelle vite di tutti i giorni noi ci muoviamo si abita a Sesto si lavora a Firenze si va in palestra a Calenzano si fa la spesa a Campi e devo dire che durante il periodo della pandemia quando eravamo chiusi nel nostro comune ci siamo resi conto anche di quanto poi le nostre vite si muovono all'interno di un territorio che è continuo ad esempio mi ricordo appunto i dibattiti sul poter andare a fare la spesa nel comune vicino dove ci sono magari dei luoghi dove si risparmia quando ancora non si poteva c'era l'incertezza che si potesse o meno quindi davvero l'area in cui noi ci muoviamo è vasta e ha senso fare una pianificazione di area vasta è fondamentale lo diceva Sandra Nistri prima è fondamentale mantenere l'identità dei singoli territori dei singoli comuni che io penso e per fortuna devo dire sia molto forte in territori come i nostri e questo penso che sia un valore aggiunto dall'altro lato ha senso pensare ad un'urbanistica integrata come peraltro appunto è stato già cercato si è già cercato di fare attraverso diciamo dei servizi in comune con altri comuni vicini penso l'unica cosa appunto che io mi sentirei di escludere è che non si può creare una grande Firenze che sia una come dire un'architettura istituzionale ulteriore condivido il tema di avere una strategia comune su alcuni temi perché ne guadagnano davvero i territori in senso positivo dall'altro lato evitiamo appunto di creare delle sovrastrutture una nuova provincia una nuova insomma sede in cui discutere però l'idea come dire di amalgamare la gestione anche politica l'idea del disegno di un territorio magari potrebbe così come dire superare far superare quei problemi che poi si hanno quando c'è il rischio del capoluogo che sposta le funzioni scomode fuori andando appunto magari a Sesto Fiorentino a Campi Bisenza al fine il tema del termovalorizzatore inserito in un contesto come quello dello Smanoro piuttosto impattato già da diverse funzioni abbastanza complesse e impattante appunto era uno dei temi magari una progettazione ampia però non serve una struttura in più allora andiamo rapidi perché non manca moltissimo manca qualcosa Sandra tema delle infrastrutture ad esempio Sesto Fiorentino dovrà arrivare la tramvia quanto è importante quanto è sentita tema dei servizi manca qualcosa insomma qual è un altro punto secondo te che sarà nevralgico soprattutto in campagna elettorale credo che proprio quello di cui parlavo e dei trasporti sarà nevralgico la tramvia sicuramente è importantissima e il fatto che anche di recente Gianni abbia confermato appunto l'arrivo della tramvia a Sesto Fiorentino e anche nel centro perché la prima ipotesi era molto distante doveva arrivare appunto al polo scientifico e non avrebbe avuto grosso senso se non per gli studenti appunto e i ricercatori del polo mentre spostarla verso appunto piazza Lavagnini quindi il pieno centro cittadino può senza dubbio avere un'importanza maggiore io credo che questo sia uno dei temi importanti ma non solo la tramvia un maggior numero di treni per esempio treni più cadenzati un miglior collegamento tra le frazioni cioè a Sesto c'è ancora questo problema che alcune virgolette frazioni cioè colonnata un quinto alto sono ancora diciamo un po' lontane dalle fermate degli autobus quindi anche questo può essere un tema importante sicuramente Pecchiolo è d'accordo questo è un altro dei temi fondamentali? Secondo me questo è uno dei temi fondamentali su cui non solo appunto così da comunicare ai cittadini ma anche proprio su cui lavorare se i cittadini ci daranno la fiducia nei prossimi anni perché secondo me è fondamentale avere un trasporto pubblico efficiente per una una città che abbia una dimensione un po' più europea diceva diceva Sandra la tramvia che quindi collegherebbe al centro della città la parte diciamo del polo e quindi verso Novoli con degli scambi di intermodalità con le varie stazioni e quindi qui si ricollega a quello che diceva anche Sandra della maggior cadenzazione dei treni questo ovviamente un ripensamento da questo punto di vista l'arrivo della tramvia potrebbe anche portare poi ad un ripensamento delle linee su gomma che ora che ora ci sono che quindi potrebbero essere distribuite diversamente come potrebbero essere ovviamente distribuite diversamente anche le risorse che vengono investite quindi secondo me questo è fondamentale allora voglio chiudere dopo con Sandra perché gli chiederò un aneddoto come dire sul municipio di Sesto Fiorentino perché preparatelo però una domanda a Claudio Pecchiorio la devo fare per forza perché insomma da questa coalizione come abbiamo detto che guarda a sinistra almeno dal punto di vista del Partito Democratico sarà fuori Italia Viva lo temete come competitor elettorale e soprattutto questo creerà dei problemi insomma vi creerà dei problemi con il fatto che magari insomma invece a livello ad esempio regionale ma così come in altri comuni siano forti siate in coalizione mentre a Sesto Fiorentino questa sintesi non si troverà Allora il partito di Sesto Fiorentino ha imparato negli ultimi anni a prendere le decisioni a Sesto Fiorentino e questo è un aspetto molto importante la stessa cosa non si può dire di altre forze politiche che magari vedono le proprie scelte prese altrove noi pensiamo che questo sia fondamentale che non avvenga perché altrimenti non si riesce a spiegare bene non si riesce a spiegare bene le posizioni invece se si prendono noi all'interno dei nostri organismi e si spiegano ai nostri militanti ma anche ai sestesi si riesce comunque a farci a farci capire che Italia Viva non fosse d'accordo con diciamo questo percorso l'abbiamo capito subito nel senso che c'è stata una preclusione non c'è stato nemmeno da parte loro un confronto sui temi che invece noi abbiamo fatto in queste settimane in questi mesi è chiaro che poi secondo me quello che premia una forza politica non è tanto questo atteggiamento di attacco frontale alle altre forze politiche quello che premia io penso sia essere riconosciuti per alcune idee per molte idee dare una prospettiva e spiegare ai cittadini e chiedere la fiducia ai cittadini su quello perché è difficile chiedere la fiducia a qualcuno contro qualcun altro rischia di essere una cosa veramente a breve termine allora Sandra la casa dei Sestesi il palazzo dei Sestesi come si intitola questo bel libro scritto insieme ad Elena Andreini lo facciamo rivedere c'è la tante tante storie ovviamente ce ne racconti una rapidamente proprio in un minuto allora ve ne racconto una a breve termine perché il 25 giugno prossimo saranno si vestigeranno i primi 150 anni di vita del palazzo monale di Sesto e il palazzo monale di Sesto rappresentò una sorta di novità perché per l'epoca era sovradimensionato era molto più grande dei palazzi comunali del circondario ma anche di molti comuni più grandi costò tantissimo e proprio per mantenersi in questa linea costò moltissimo anche l'inaugurazione a cui parteciparono centinaia di persone tanto che ecco l'aneddoto il sindaco il sindaco Daddi dovette di tasca propria pagare il buffet quindi ebbe anche una grossa spesa la cosa che mi piace ricordare è che all'epoca fra i giornali invitati c'era anche la nazione che prosegue anche oggi insomma per mia fortuna e che ci sarà immagine insomma anche il 25 giugno ovviamente raccontare ciò che succede a Sesto Fionettino con la voce autorevole di Sandra Nisti che ringrazio grazie Sandra per essere stata con noi naturalmente ci rivediamo presto grazie a Claudio Pecchioli in bocca al lupo per la campagna elettorale a tutti per averci seguito da casa noi terminiamo qui e naturalmente ci vediamo domani buona serata a tutti a tutti